È stata inaugurata sabato al Palazzo del Bargello a Gubbio la prima mostra internazionale denominata Estate Naif, promossa dall'Associazione Culturale La Medusa, ente gestore del Palazzo del Bargello, con il coordinamento di Tania Tagnani e del patrocinio del Comune di Gubbio. All'inaugurazione, oltre alla stessa Tagnani che ha fatto gli onori di casa, hanno portato il loro saluto Gian Pietro Rampini, artista e ceramista Eugubino, in rappresentanza del Rotary Club Gubbio e Andrea Smacchi, consigliere regionale. Fino al 31 agosto va in mostra la prima edizione di un'interessante ed accurata rassegna, promossa principalmente da Piero Pierini, pittore e collezionista di Roma, e da Luigi Braghiroli, collezionista di Reggio Emilia, tra i maggiori cultori in Italia dell'arte naif. Da alcuni anni Pierini e Braghiroli, anche in virtù di una profonda amicizia, allestiscono mostre d'arte naif, con l'unico scopo di promuovere e divulgare questa espressione artistica. In questa occasione, oltre ai maestri espositori, è presente una parte della famosa e unica collezione dei bottoni naif di Braghiroli Luigi. Al Palazzo del Bargello, Pierini e Braghiroli hanno portato maestri affermati, come Leogubino Pietro Nardelli, il rigattiere, che espone anche nella celebre mostra di Via Margutta a Roma, e altri artisti con sicure prospettive di un futuro di grandi successi. Non mancano pezzi celebri dalle collezioni private di Braghiroli e Pierini, come le opere di Sergio Terzi, Nerone, Alberino Carmelina, Carmelina da Capri, Antonio Donati, Mario Colombo, Corinna Ceccarelli, Josip Generalic, Stiepan Vecenai, Ivan Rabuzin e Ivan Lakovic. Tutti grandi maestri che hanno portato ai massimi vertici il linguaggio dell'arte naif. Va ricordato che Pierini è stato curatore della prima e seconda mostra internazionale d'arte naif a Gualdo Tadino, sta preparando la terza edizione della mostra internazionale di arte naif a Palazzo della Cornia di Castiglione del Lago e l'estate naif che si terrà fino al 31 agosto a Cinquale di Montignoso in Toscana.